Salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo, sentite l'entusiasmo nella mia voce perché sto per portare sul campo di battaglia una nuovissima, aggiornatissima versione della Hobgobla Khan. In questo caso abbiamo abbandonato le steppe orientali, le lande brulle, spazzate da venti gelidi per andare invece a metterci al comando dei Goblin della foresta. Per chi non lo sapesse la lore, diciamo l'ambientazione, il canon nel mondo di Warhammer vuole che esistano Goblin che si sono adattati, anche Ork in realtà i pelle verdi in generale si sono adattati a diversissime condizioni climatiche e ambientali. Quindi mentre i Cavalcalupi, i Goblin delle steppe sono diventati abilissimi cavalieri sui loro pulciosi amici a quattro zampe, i Goblin della foresta si sono adattati, hanno trovato un'alleanza con gli Dei Ragno per scatenare queste invece creature malevole, chitinose. E' otto zampe piene di veleno e malinità. In questo caso è una lista abbastanza meme, stoppo di nuovo portando, sempre provando a spiegare al buon Mastro Moddaio che gioca molto molto bene, il Lizard. E qua si è portato una lista Uomini Lucertola che invece vanno provando a profanare un po' diciamo i santuari del Dio Ragno qua e si contendono questo campo di battaglia con un po' di collinette, un po' di boschette a destra e sinistra contro le mie orde velenose. Iniziamo a questo punto già che siamo qua dal buon Mastro Moddaio, abbiamo un po' di scinchi sul fronte che contro i Goblin se la cavano abbastanza bene e poi abbiamo ovviamente il cuore della fanteria. Gli sauri guerrieri con dietro delle guardie del Tempio in funzione probabilmente antitroll. A me piace molto molto l'utilizzo di questi bastilodonti selvaggi con 140 di armatura, hanno delle discrete caratteristiche, combattono bene contro la fanteria, hanno danni penetranti ma soprattutto fanno terrore. Quindi sono difficili da ammazzare per gli orchi e insomma possono mandare in terrore velocemente un sacco di mie truppine generando non pochi problemi. E poi di nuovo qua la tattica preferita del nostro Mastro Moddaio, l'assalto sul fianco della cavalleria. Abbiamo tre gruppi di scinchi camaleonti a schermagliare e poi dietro invece abbiamo due unità di lanceri su nagaronte guidati di nuovo dal mitico Krokgar qua sul suo bestione, sul suo carnosauro da guerra, tutto corazzato. Un bel po' di massa, un bel po' di danni penetranti, Krokgar è un ottimo antilargia delle caratteristiche talmente alte da fare a pezzi, praticamente qualsiasi cosa. Ad aiutarlo a tenere in linea questo esercito cattivello di sangue freddo abbiamo anche uno sacerdote 5 con la sfera del cielo che si porta dietro direi esplosione di vento, eccolo qua, e vento della mezzanotte per abbassare attacco e corpo a corpo dell'avversario. E poi uno sauro veterano a piedi di nuovo in funzione antilargia, molto molto tancoso. La completamente folle e assolutamente poco meta, poco competitiva lista degli orchi di pelle verde prevede un sacco di ragnetti, di cavalcaragni, portano massa, soprattutto avvelenano, quindi tolgono velocità, bonus, tolgono forza dell'arma, forza da tiro alle truppe avversarie, rompono in generale un sacco le balle e poi ci sono anche un sacco di versioni invece con archetto. Quindi non tiro di grandissima qualità ma costante, noioso, abbastanza, abbastanza veramente fastidioso. L'idea è proprio quella di infastidire il nemico finché non lascia il campo di battaglia abbastanza stanco e stufo. Per l'antilargio di qualità diciamo l'unica cosa che in effetti picchia abbastanza bene in questa armata sono i miei due ragnoni. Arachnork qua abbiamo un grande sacerdote, un grande sciamano goblin su Ragnone che si porta dietro soltanto lo sguardo vendicativo per andare a uccidere gli eroi avversari e poi si porta dietro Sneaky Stambin per potenziare probabilmente i ragnoni visto che le altre truppe fanno abbastanza gagare. Mi sono portato dietro anche una corona del comando per rendere irriducibile un'unità e quindi eventualmente magari buttarla sui ragnetti e bloccare così una unità nemica nel momento che mi serve per fuggire e poi anche non pensarci nemmeno che non solo fa qualche danno ma dovrebbe anche aumentare la ricarica dell'abilità. Abbiamo la regina Arachnork che partorirà un sacco di ragnetti in giro per il campo di battaglia e il resto sono goblin. Quindi goblin con lancia qua ad assorbire le cariche e a usare lo scudo d'argento contro i camaleonti, un po' di zudeli sperando che qualcuno riesca magari per fortuna più che altro ad ammazzare qualche cosa e poi in chiave antifanteria sto provando a utilizzare ultimamente questi antipatici snottling, questi carrettini a pompa che dovrebbero avere danni penetranti bonus contro la fanteria quindi sulla carta sono abbastanza buoni per fare un po' qualche danno ai ranghi compatti dei lucerturoni. Le due armate si studiano e iniziano ad avvicinarsi mentre intanto i cavalcaragni si vanno a schermare le tuppe di cavalieria dall'altra parte provano un po' a pungolarle, a dargli fastidio e da quest'altra parte invece provo a far collassare un rango, un fianco alla volta. Quindi la regina Ragnarok si butta in avanti mentre intanto gli scinchi e i goblin iniziano il combattimento, le carri a pompa delle caccole iniziano a tranciare tutto il tranciabile senza fare poi tantissimissimi danni. Vediamo soltanto in questa carica cosa sono riusciti a fare, due morti su dei gruppi di scinchi, non è decisamente granché. I Ragnoni provano a liberarsi immediatamente di Bastiodonti capendo che questi danno un vantaggio definitivo alle truppe di fanteria, più che altro impediscono che i miei goblin che già reggono poco reggano veramente nulla, vengono mandati subito in terrore. E di qua invece il blobone di cavalleria e i scinchi e i camaleonti continuano ad avanzare nonostante la pioggina di frecce che lì rallenta, rompe le balle, insomma sto provando più che altro a infastidire quel fianco. Krokgar invece va subito a caccia delle cose grosse ma qua un po' perché c'è, che non avevo visto immediatamente, il sauro veterano a piedi, un po' che c'è la guardia del tempio e la mia povera regina Ragnarok ha subito un bel po' di danni. Fortunatamente è riuscito a terrorizzare degli scinchi che vengono intercettati, partono esplosioni di vento però sono goblin quindi non è che facciano poi malissimo e diciamo che i miei goblinodi, i miei verdonzi si buttano ad ondate successive più che per fare a pezzi le truppe nemiche almeno per impegnarle. Lo sciamano prova a gestire almeno la magia dell'avversario, smozica a destra e sinistra un po' al bastilodonte, un po' allo sciamano nel frattempo sparacchia, purtroppo i carri a pompa delle caccole si rivelano inutili come era abbastanza prevedibile. Ma qua c'è una situazione abbastanza fortunata per me perché i cavalieri sono stati intercettati dai zudoli che proprio quando stava per partire la waga quindi hanno attivato la bomba, hanno danni penetranti, in questo momento hanno un attacco abbastanza alto, dovrebbero avere 50 di attacco quindi più che sufficiente a far fuori i cavalieri su una garonte e insomma li stanno veramente facendo a pezzi. Ci sono sempre i ragnettini qua che sparano. Togliendomi almeno queste devastanti e antipaticissime unità di cavalerie dovrei stare un pochettino più sereno, un pochettino più al sicuro con i miei ragnoni. Ragnoni che nel frattempo continuano a imperversare, evocare ragnetti come quando è possibile. Ecco qua una progenie a otto zampe che viene subito evocata proprio in mezzo alla maledizione del vento e la mezzanotte ma si può buttare subito o a dare fastidio allo sciamano o comunque nel reto di queste truppe per impegnarle un pochettino. Crocker è in mezzo al suo safari personale a caccia del mio ragnone. Qua goblin che si ritirano, scappano, urlano praticamente ovunque, è una battaglia abbastanza caotica. Diciamo che i poveri lizard fanno fatica a muoversi con tutti questi ragni, con tutti questi goblin che appaiono da ogni parte. Vedete che appena le truppe si ritirano e i lizard si sbloccano per andare a dare la caccia dove serve, burtono subito degli altri corpi. I goblinodi in mezzo qua, gli snottling caricano, hanno buona massa, sconvolgono un po' la linea avversaria, però non è che poi facciano tutte queste uccisioni. Nonostante danni penetranti ma si caricano, non so, sembra che facciano fatica a mettere un po' di trippa sotto i denti. Crocker e i suoi langeri sono stati... i langeri sono un po' sconvolti, un po' mandati in rotto, insomma non è che stiano benissimo. Ma Crocker è ancora in vitio, sta praticamente ricacciando tutto il mio fianco sinistro, lo sta rispedendo direttamente al mittente. Le truppe di fanteria dei goblin rimbalzano sui ranghi dei sauri, qua non c'era da aspettarsi diversamente, ma i goblin cavalcalupi invece si dimostrano abbastanza noiosi. Insieme ai due ragni stanno veramente facendo fracassi in mezzo alle linee. Qua partono di nuovo dei ragnetti sempre pronti a inseguire cose e a rompere le balle, i miei poveri carri a pompa delle caccole, io vi giuro che vi vendicherò un giorno, troverò un modo per cui possiate essere anche solo che vagamente inutili, nel frattempo i ragnoni sorgono ancora una volta in avanti antilargio contro antilargio, ma questi sono dei bestioni grandi, grossi e cattivi, quindi dovrebbero riuscire a mandare in rotta le cavallerie dell'avversario. La Death Star di fanteria nel frattempo continua a tenere solidamente il centro del campo di battaglia, che le truppe di goblin si radunano qua e là, ci sono un paio di subdoli, un paio di goblin a destra e a sinistra, e nel frattempo i subdoli provano come possono impedire, diciamo che questa lista conta sul controllare il campo di battaglia. Vedete che alla fin fine ci sono le truppe di fanteria isolate da questa parte, un po' di cavallerie, un paio di rome, un paio di mostri isolate dall'altra. Krokegar sempre a caccia ma privo di supporto, quindi potrebbe anche essere u per bacco, potrebbe essere il momento di colpire. Krokegar se la prende col primo bestione, viene subito circondato e spunzecchiato dai lancieri su ragno e dagli arcieri su ragno, a questo punto i due bestioni vanno invece a caccia. Iniziano ad avvicinarsi al nemico, Krokegar usa la sua abilità, la sua scoreggia per farsi di nuovo largo, le truppe di Sauri continuano ad avanzare, provano a raggiungere i goblinodi e almeno a cacciare, ma questa è una situazione che a me avvantaggia abbastanza, perché questo bloccone sicuramente finirà per sfondare, fare a pezzi tutte le mie truppe, ma dovrebbe darmi abbastanza tempo da inseguire il povero Kroke. Krokegar che adesso sta subendo un bel po' di danni, un po' di sguardi vendicativi che di tanto in tanto partono, un po' che ci sono i ragnetti che li mozzicano, i calcagni squamosi, un po' che ci sono le freccine, adesso è stato raggiunto persino dalla regina Arachnok che si becca anche sneaky stabbing, quindi arriva a un gigantesco 94 di attacco corpo a corpo, in effetti il buon Krokegar capisce che insomma non è prudente stare lì in mezzo e vedete che i goblin in tutto sommato in questo blobbone riescono a registrare un pochettino di più le truppe dei Sauri non riescono a combattere tanto efficacemente, quindi c'è questa gigantesca gangbang di... sembra un documentario in versione pornografica del National Geographic, perché ci sono ragni schifosissimi che stanno provando a fare cose orribili e vietate minori di 18 anni su questi poveri lucertoloni. Krokegar riesce ancora una volta ad andarsene, di nuovo sembra essere a caccia della mia regina Arachnok, parte di nuovo in carica, provo a intercettarlo con i miei ragnettini più piccoli, partono delle altre evocazioni qua direttamente alle spalle dei Sauri, provano ad avvenilarli, a bloccarli, a intimorirli, quindi qualcosina scappa, Krokegar è quasi riuscito a far fuori la regina Arachnok che ha di mille punti vita, ma è subito raggiunto anche dal Goblin Grande Ciamano. La regina Arachnok è in fuga, ma Krokegar a questo punto non è proprio esattamente messo benissimo. Parte un'altra wag, questo sbalza la mia regina Arachnok, 82 di attacco corpo a corpo e con Krokegar in fuga, questo è un colpaccio bruttissimo per i poveri Sauri, perché io ho un sacco di truppine veloci che possono inseguirlo e eventualmente farlo fuori, è difficile che Raffo riesca a tenere in linea, a riportare, a richiamare raccolta Kroke e nel frattempo insomma questo blocco, questo colpo alla disciplina, sono arrivati anche i Zubdeli adesso che possono magari evocare, lanciare una bomba per bloccare. Alla fine io chiacchieravo, non mi sono neanche accorto che il povero Kroke è stato massacrato, sbalzato di sella da uno sguardo vendicativo. Ci sono ancora tutti questi blocconi, in tutto sommato la battaglia non è ancora definitivamente chiusa per i pelle verdi, ce ne sono ancora un sacco, 560 contro 240, siamo ancora quasi il doppio di questi lucertoloni, ma la maggior parte delle truppe sono stanche, sono preoccupato, sono andate in rotte mille volte, quindi sono veramente con i nervi tesissimi. Fortunatamente per me per qualche motivo qualcosa terrorizza qualcosa, il Ragnone, ma insomma non mi aspettavo che la Guardia del Tempo potesse essere terrorizzata tanto facilmente, il Ragnone è riuscito a spezzare di nuovo momentaneamente la disciplina, il Bastilodonte qua sta cedendo, il molto più coraggioso invece di Sauro Veterano, la Guardia del Tempio, nonostante io queste cose non le capisco, teoricamente non potrebbe riportarsi in linea, visto che ci sono un sacco di nemici vicino, ma si richiama a raccolta e di nuovo torna ad opporre resistenza. Sembra che gli assalti dei Goblin rimbalzino sui compatti ranghi della Guardia del Tempio, sostenuta dai due Bastilodonti, dai due bestioni qua, e rinforzata dal Sauro Veterano, i Goblin si ributtano ancora una volta qualcosina, ogni tanto riescono ad ammazzare, ci sono più che altro le freccine, c'è lo sciamano qua che ci dà dentro ancora una volta la Guardia del Tempio a questo punto scappa in fuga, il Ragnone dovrebbe essere più che bastevole per gestire i due Bastilodonti, nel lontananza si stanno richiamando a raccolta un pochettino, un po' di truppo, ci sono dei Cavalieri su Naggaronte delle Corti di Scinchi che tornano in corpo a corpo, ci sono dei Zubidoli che si buttano ancora una volta, attivano subito la bomba per rallentare, impedire che queste unità scappino, se ne vadano in giro, e intanto i Ragnetti fanno quello che possono per travolgere le truppe in fuga, ci sono però dei Sauri Guerrieri, c'è lo sciamano, scusate il Sauro Veterano, lo sciamano Goblin sta per lanciare un altro sguardo vendicativo, a questo punto cerco di distruggere almeno la leadership dell'avversario, del buon Raffo, questo Sauro Veterano è bloccato dai Zubidoli che stanno facendo quello che possono, 69 uccisioni per i Zubidoli sono decisamente tanta cosa e il mio Bastione torna a caricare ancora una volta, il Sauro Veterano non riesco più a parlare da quanto dura sta partita, quasi 10 minuti, il Sauro Veterano è l'ultimo e migliore anti-large che Raffo può portare sul campo di battaglia, quindi toglierselo dalle balle per me è essenziale, ci sono dei Cavalieri su Naggaronte che però non sono anti-large, parte un altro sguardo vendicativo, 542 punti vita, a questo punto il Regnone dovrebbe essere sufficiente a gestire sia i Bastiodonti sia quello che rimane della fanteria a terra, guarda del tempo comprese che sono solo 21. Per non correre rischi continuo a inseguire il veterano, riesco alla fine a spezzargli completamente il morale, se ne dovrebbe andare via dal campo di battaglia con 98 punti vita, ci sono i due Bastiodonti impegnati qua a fare a pezzi, i miei poveri e coraggiosissimi Goblin sono ancora 70, non so quanti ne siano morti a questo punto sul campo di battaglia, poi vedremo quanti morti hanno fatto i Lizard, ma alla fine la carica dello sciamano Goblin riesce a spezzare il morale agli ultimi Bestioni e questo dovrebbe segnare la fine dell'esercito dei Lizard. Bellissima battaglia, StragiG al nostro Raffo che combatte sempre con le unghie e con i denti, un bel esercito da parte di Niesenau, probabilmente c'è da raffinare un pochettino, ho visto che si è concentrato tantissimo nelle partite che abbiamo fatto recentemente su Crocgar, probabilmente di nuovo al posto di questa tripletta di eroi basterebbe mettere Mazda Mundi sul suo tricero a topo da battaglia, risparmierebbe punti e avrebbe un ottimo pezzo. I Bastiodonti non mi dispiace, non funzionano molto bene anche i Bastiodonti con macchina solare, in questo caso e il resto tutto sommato della lista mi sembra molto molto solido. Questa invece non una lista particolarmente competitiva ma molto 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 divertente da usare, c'è praticamente tutto quello che vi può servire in questo scontro, quindi dell'antilagio di qualità, la fanteria che reggerà più che altro andandosi a schiantare andate successive, vedete che io ho perso veramente un sacco di roba, 191 uccisioni per guardie del Tempio, 102, 58, 64, 185, cioè i miei Goblin sono stati veramente fatti a pezzi, però dai e dai e dai e pian pianino hanno fatto dei bei danni, diciamo che alla fine sono riusciti a sgranocchiare via il morale dell'avversario. Purtroppo gli Snodling sulla carta sarebbero quello che serve in questo caso, quindi un'antifanteria con danni penetranti dovrebbero avere una buona sinergia con le mie truppe di Goblin, ma sembrano essere dei pezzi molto molto fragili e che raramente si ripagano. Forse mettere dei Zubdoli in questo caso potrebbe essere una idea migliore ovviamente dei semplici carri dei Goblin, insomma qualcosa antifanteria servirebbe, gli Snodling sarebbero la cosa più giusta, più efficace sulla carta, ma per qualche motivo o io non riesco a far funzionare o non funzionano loro, li uso male io, non lo so, ditemelo voi. A questo punto vi lascio come al solito chiedendovi qualche consiglio anche per migliorare la nuova Hobgoblacan fatta di soli i ragnetti, ringrazio Niesenau per le partite, gli faccio ancora GG, secondo me gioca veramente da Dio, gioca molto poco ma è bravissimo in questo titolo, quindi veramente un talento che speriamo un giorno di poter scatenare sui nemici della legione di Pirazzo, e a questo punto dal vostro buon Arcadius, dal buon Mastro Modaio è tutto, torneremo a vederci molto molto presto sui prossimi campi di battaglia del vecchio oppure del nuovo mondo.